Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mister e oggi siamo da una visione come sempre a Boba su Clash Royale ragazzi oggi finalmente visto che non la pigliamo mai in considerazione l'altra modalità di Royale un bel top deck per andare a scalare all'interno del cammino dei trofei come potete vedere ragazzi all'interno del cammino dei trofei sono anche abbastanza bassino siamo quasi a 7000 coppe, hanno alzato la soglia a 9000 e che ne dite se ce la giochiamo pure in questa fantastica modalità per arrivare alle 9000 questa modalità non è niente un po' di meno ragazzi che la vecchia ladder ogni partita si guadagnano 30 o 33 più trofei e poi ogni partita persa si scende nuovamente giù ma non prima dell'arena quindi attualmente mi trovo nel tempio del silenzio non potrà mai tornare più all'arena precedente nonché la cripta royale vi consiglio di iniziare ad avanzare anche voi ragazzi perché se uscirà qualsiasi altro campione o carta nuova state tranquilli che Supercell ve la farà sbloccare soprattutto se è un campione in queste prossime arene quindi se siete bassi come me pigliate sto deck che vi andrò a mostrare e scalate il più possibile mi raccomando ragazzi con il lecchino di supporto mi raccomando con l'iscrizione al canale dagli che manca ancora un pochino in questo momento vi ricordo sono giù in Puglia a cillarmela tornerò il 23 ma spero che la mia presenza non vi mancherà in questo tempo sto cercando di fare il possibile per portarmi avanti con i video se volete venire a vedere che caspita sto a fare in ferie seguitemi su Instagram deck ragazzi è questo 3.4 con il Cavaliere Evo la Cimitero, il Draghetto, la Veleno, lo Stregone nel Viaccio, la Tornado, il Barile Barbarico e la Lapide raga purtroppo non ho trovato deck molto molto forti senza una Evo questo è il deck più utilizzato in assoluto all'interno del Cammino dei Trofei ho visto che molta gente si trova bene per andare su anche perché c'è una struttura all'interno come la Lapide c'è una Evo e soprattutto c'è una Cimitero con una Poison che è veramente molto molto versatile non mi perderei in troppi chiacchiere ragazzi conosciamo tutti la dinamica della Cimitero ci vuole il deck avanti e poi lanciare la Cimitero quindi di conseguenza passiamo subito al game in chiama strano ragazzi schiacciare il tasto partita in questa modalità e vedere in alto a sinistra i trofei come mesi fa su Royale prima del grandissimo aggiornamento che è incluso il livello 15 e i campioni mamma mia che storiella ragazzi che storiella non da poco andiamo con la Lapide perfetto diciamo che va bene ragazzi diciamo proprio alla stralunga che va bene sto traghetto spero che mi faccia fuori la pirotecnica almeno quella no ok andiamo con un barico e barbario andiamo con un tornato ok portiamoci lui di qua per favore che male non ci fa e dovremmo starcene abbastanza tranquilli allora ci siamo difesi a parer mio in maniera divina ragazzi ha lanciato una fireball il tipo veramente so pretty cool non credo che abbia tantissimo elisir a questo punto per andarsi a difendere sicuramente un'altra pirotecnica ce l'ha ragazzi e invece porca miseria c'ha la gang più gli strellini quindi entrare in hit con questa Cimitero sarà molto 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 ardua ragazzi ma non impossibile quindi perché non impossibile perché abbiamo la poison voglio sempre ricordare questa fantastica carta che si chiama per l'appunto poison e oltretutto ci siamo andati a ciclare anche il cavallierozzo il cavallierozzo evo che è tanta tanta roba perfetto non ci pigliamo la hit del principe nero quindi gg andiamo con un cuccioletto di drago ragazzi ci siamo pigliati la hit della pirotecnica ma non è un problema sì andiamo a fare di questo assolutamente e andiamo assolutamente con Cimitero e Poison ragazzi molto molto tranquilli andiamo con la veleno perché lui ci tirerà i più gli strellini per l'appunto il tank è campato pochissimo ragazzi potevamo fare molti 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 più danni ce la prendiamo così come è venuta ragazzi andiamo con un barile barbarico di qua assolutamente l'ho missata tacci mie di chi non me lo dice con la mano non alzata regà di più cioè proprio a spaciones non dovevo missare assolutamente per nulla al mondo quella pirotecnica evoluta l'ho missata ragazzi ce la pigliamo così come è venuta va bene va bene va bene va bene va bene bravo lui si sta comportando molto molto bene se può di niente regà lui a lui veramente non se può di niente ma niente 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 andiamo con il barile barbarico che a sto giro l'abbiamo lanciato bene ok andiamo con il cavaliere a sto giro lanciato anche lui molto molto bene andiamo con il cucciolo di drago ragazzi benissimo tiriamoci questa cimitero per non saperne leggere né scrivere andiamo con la poison per non saperne leggere né scrivere ragazzi andiamo con la tornandigna mamma mia quanti danni regà cimitero for the win e che match continuiamo ragazzi altro giro altra corsa contro adriano che non fa parte di nessun clan abbiamo subito a disposizione il cavaliere quindi di conseguenza ragazzi ovviamente visto che abbiamo la versione evo partiamo dal fondo se non ci stanno i ruttini vi voglio ricordare che non è una live del mister ovviamente via con la lapidina secondo me l'ho lanciata male questa lapidina è messa poco o desifra la lapidina l'abbiamo lanciata un po' male allora cerchiamo di essere il più versatile possibile ok cucciolo di drago abbastanza fantastico l'abbiamo gestita bene l'abbiamo recuperata ragazzi l'abbiamo recuperata molto molto bene ci è rimasto l'attivo il cuccioletto che una hit ce l'ha sparata posso andare di cimitero sicuramente nessuno me lo vieta ragazzi minchia non me lo vieta poco nessuno quindi conseguenza va bene così bella robetta andiamo con lo stregone del ghiaccio ok stregone del ghiaccio sinceramente in this moment ci può anche crepare quindi non ci interessa va bene l'abbiamo gestita bene in fase difensiva molto molto bene dovremmo riuscire a stare abbastanza tranquilli ragazzi perché con il cavaliere sia normale che il bombolone alla crema ce lo mettiamo abbastanza in tasca senza troppi problemi andiamo con la lapide perfetto abbiamo a disposizione anche il cavaliere quindi gg cucciolo di drago ci dà una mano eventualmente per il suo maghetto cavaliere in this moment ok barile barbarico ok perfetto va benissimo così ok c'è il maghetto lui è ecco il maghetto l'ha tornato potevo tirarcela sotto sta tornato sono stato un po' un cojones va bene così andiamo con lo stregone del ghiaccio andiamo con il cavaliere di qua per non saperne leggere né scrivere ok andiamo con questo bella la lapide di qua mi è piaciuta volevo andare con un draghetto ragazzi però ci ha lanciato l'apide va bene così bravo bravo molto molto bravo lui qua andiamo con la cimera ok perfetto andiamo con la tornata ok tornata ottima che non gli ha sciottati oltretutto mi sa che ce l'ho bassa la tornata ragazzi perché dovrebbe sciottare senza troppi problemi minchia sto a giocare con le carte basse gg gg proprio tantissimo andiamo a fare di questo andiamo a fare di questo per carità divina lui qua è stato bravissimo minchia se è stato bravo lui qua andiamo con la lapide ok andiamo con questo andiamo con la cimitero andiamo con la veleno magari vinciamo con la partita di primo eh ragazzi ok veleno abbastanza succulenta lui potrebbe andare avanti a ciclare razzo eh senza troppi problemi e magheggi andiamo a fare di questo bravo 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 minchia bravo bravo andiamo con la cimitero ragazzi ora mai più via di cimitero via con la poison secondo me ci sta abbastanza bene perfettissima così via con la tornata mamma mia che storia ragazzi mio dio che storia e che partite in sta modalità con sto deck signori ho praticamente tre carte al 13 tra cui il cavalierevo che ho portato in questo momento al 14 la tornata e lo strego nel ghiaccio quindi si stava a giocare con le carte sotto livellate è buono meglio no? meglio boys meglio ci piace di più così no? allora per il momento stiamo andando molto molto bene andiamo con la cimitero this moment perfetto di nuovo l'orda ragazzi di nuovo l'orda io ti direi questa velenite qua ce la tiro molto pulita perché ci facciamo fuori un po' tutte cose perfetto andiamo a fare di questo con il cavaliere che secondo me ci sta andiamo a fare tornato potevo pizzicare un po' prima peccato ci siamo fatti attivare la centrale quindi gg pazzescamente gigantesco grazie per la bella giocata fratellino questa sarà una partita altrettanto succulenta qui secondo me lo stregone del ghiaccio ragazzi e la lapide giocheranno un ruolo fondamentale ovviamente insieme alla poison perché c'ha l'orda di scheletrini pure lui quindi dobbiamo non possiamo dobbiamo optare per un push con la poison e la cimitero boys qua ce ne andiamo il barile barbarico perché abbiamo capito che lui il barile goblin non ne ha quindi va bene così se mi devo accontentare chi si accontenta di solito gode quindi andiamo con la pelina perfetto bella giocata grandissimo hai buttato praticamente due barbari nel pattum fratellino meglio per noi meglio per noi sicuramente perché vengono in fine indiana tutti quanti a morirci male quindi meglio sicuramente andiamo a fargli questo ok andiamo a rallentare un po' tutte cose perfetto perfettissimo così non abbiamo la cimitero in cycle va bene uguale perché tanto mi serve per forza di cose la poison ragazzi mi serve per forza di cose la poison quindi va bene così andiamo col cuccioletto di drago siamo in overtime quindi tanta tanta robetta bella la razzo fra bella la razzo sicuramente andiamo con la cimitero andiamo con la veleno dobbiamo fare per forza questa combo ragazzi perché se no ce la pigliamo in quel posto tantissimo attenzione gli scheletrini di là sul lato destro della torre che hanno fatto dei grandissimi danni boys hanno fatto dei grandissimi danni andiamo a fare di questo perfetto mamma mia what's incredible boys andiamo con il cavaliere ok andiamo con la cimitero gigantesca andiamo con la poison altrettanto gigantesca ragazzi bella bella come il sole questa poison è andato anche con la tronco lui quindi attenzione via di lapide magari lo predictiamo un attimino via a fare di questo perfetto via a fare di questo perfettissimo proprio mamma mia so crispy mac beckons perfetto andiamo il cavaliere dal fondo buono 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 princess ok bella la razzetto fra va benissimo condivido con te quella razzetto andiamo con la poison buona fra 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 minchia regà tre su tre che vi devo dire bel deck ci vi dire in questa modalità stupe da partite regà molto 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 succuse le avete viste nonostante ho due carte sottolivellate non abbiamo avuto problemi di sorta se riuscite a utilizzare questo deck per il cammino dei tropei regà non vi dico che verrà andata abbastanza cillati ma quasi fatemi sapere se volete altri deck magari anche free to play per il cammino dei trofei con un bel lecchino di supporto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto grazie mille a tutti come sempre io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mr.Eco